Diciamo intanto con un grande prudenza che in queste ore si sta cercando di definire un meccanismo per allargare la platea delle persone che potranno ricevere un indennizzo rispetto a quanto è accaduto nelle scorse settimane. Usiamo ancora la prudenza ma c'è stato un grande lavoro in questo ultimo mese e mezzo nel tentativo di trovare una soluzione che ampli il più possibile la platea delle persone che si possono sostenere, aumentando il fondo da 100 milioni di molto e quindi consentendo di dare una risposta molto ampia e numericamente anche importante. È la prima volta da quel 22 novembre 2015 che l'onorevole Marco Donati parla della vicenda Banca Etruria a cuore un po' più leggero. Le notizie diffuse dal quotidiano La Stampa hanno a quanto pare un concreto fondamento. Gli obbligazionisti azzirati dal decreto salvabanche potrebbero essere rimborsati fino a 100 mila euro cada uno dell'intero importo perduto e senza arbitrato. La prudenza però è ancora d'obbligo. Però appunto il condizionale è d'obbligo perché ci sono ancora dei passaggi da definire e quindi non diamo magari false aspettative ma sicuramente possiamo dire che c'è un lavoro molto profondo che dovrebbe a questo punto essere quasi arrivato a conclusione. Quindi speriamo di poter dare una risposta significativa anche a tanti cittadini di molte regioni ma in particolare a quelli della città di Arezzo e della provincia di Arezzo. Il meccanismo potrebbe essere quello di una sorta di bail-in applicato a questa circostanza? Questa è una normativa nuova e la vicenda della Banca Etruria, delle quattro banche, si è incrociata con una vicenda del tutto nuova su cui si sta forse facendo anche sostanzialmente quasi giurisprudenza in Europa. Quindi vediamo se potrebbe essere questo accostamento quello che potrebbe consentire di dare una soluzione più ampia rispetto a quella che si era pensato fino ad oggi. I rapporti con il governo sono costanti, le sollecitazioni di questi mesi sono state tantissime, in silenzio, con molta garbo e consapevolezza ma con chiaramente la fermezza di chiedere quantomeno una risposta più ampia. Speriamo di esserci riusciti. L'idea del tetto quindi è percorribile? Cioè sarebbe percorribile? Sì, alcuni organi di stampa hanno parlato di un tetto di rimborso di circa 100.000 euro minimo, questo chiaramente darebbe una risposta molto ampia però ci sono ragionamenti in corso anche con l'Europa che in questo momento sono difficili comunque tutti da delineare e quindi aspettiamo ancora, prima di dare una risposta, aspettiamo di capire cosa accadrà nei prossimi giorni ma ecco, una cosa la possiamo dire, nell'arco di pochi giorni dovremmo avere una risposta importante e quindi chiaramente finalmente mettere la parola fine a questa vicenda, quantomeno per quanto riguarda le obbligazioni di questi subordinati.